Primitivo, come un buon vino, un buon vino semplice ma gustoso e che non ha ovviamente le pretese del vino ricercato ma è un vino arrazzente, intrigante, un vino stuzzicante, stuzzicante come lo sono i canti della moggia. Quest'anno ricorre un particolare anniversario, sono 25 anni discografici del gruppo, abbiamo pensato bene di festeggiare questo anniversario con un disco nuovo, ovviamente Primitivo. Perché un gruppo come Waragnown decide di lanciare il suo nuovo disco attraverso un progetto di crowdfunding? Un progetto di crowdfunding è uno strumento per attivare e consolidare le relazioni attraverso uno scambio di valori e di valore. Il gruppo Waragnown farà affidamento sui musicisti di sempre, su quelli più primitivi a partire da Maria Moramarco, Silvio Teot, Luigi Bolognese, Filippo Giordano, Gianni Calia, Nico Berardi, le nuove generazioni Nanni Teot e Michele Bolognese, i nuovi amici come Alessandro Pipino con gli organetti, le lame sonore, le visarmoniche e Carlo Lamann con il suo basso Freightless. In questo nostro lavoro primitivo dobbiamo cercare di andare a scoprire qualche altro canto che non abbiamo ancora riproposto. Un Waragnown dannata. I canti della Murgia che con le loro strofe rappresentano brandelli di storie, storie che raccontano con pochi fotogrammi di parole, raccontano di persone e di personaggi, i personaggi che hanno abitato le campagne della Murgia in un passato remoto che ci portiamo dentro. Che il vostro contributo, il vostro sostegno alla realizzazione di questo progetto avrà una ricompensa che sarà nel valore del prodotto culturale che noi riusciremo a realizzare grazie al vostro sostegno. Dopo le tre strofe, dopo le tre strofe, si c'è la variazione. Ed eccolo qua il nuovo album dei Waragnown, il decimo. Si intitola ovviamente Primitivo e questa volta abbiamo tirato fuori un album rosso, corposo, amabile, vitigni d'eccellenza per un nuovo grande progetto, il decimo dei Waragnown e questa volta abbiamo pensato di produrlo insieme a voi. E quindi, facendo parte in questa campagna di spazio di crowdfunding, potete essere il protagonista del nostro progetto di CD e ottenere il nuovo album di Waragnown e avere i nostri spaziali riservati per voi. E allora potrete diventare coproduttori del nostro disco e per coloro che ci seguono con attenzione abbiamo riservato delle ricompense specialissime che trovate qui accanto. Grazie. 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 Grazie.